Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Federico, sono qui oggi per spiegarvi come è possibile trasferire la propria libreria presente in un programma per DJ, che sia Rekordbox, che sia Serat o Tractor, insomma qualsiasi programma gratuitamente e molto semplicemente col vostro computer senza l'ausilio di nessun programma esterno. Vediamo subito come fare. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram, che io ce l'adoro a Federico e se volete anche avere maggiori informazioni riguardo ai miei video trovate il canale Telegram qui sotto oltre che il link al gruppo che trovate sulla descrizione del canale Telegram per parlare con moltissimi di voi. Detto ciò iniziamo subito. Allora adesso vedrete lo schermo del mio computer che ho preparato ad hoc per far questo video qui sotto ho messo tutti i programmi che utilizzo, con cui ho provato questa tecnica qui ho procurato tre canzoni da utilizzare come esempio per trasferire la libreria un paio di premesse da fare. Premessa numero uno, sto utilizzando un Mac, non ho provato con Windows suppongo che sia la stessa cosa ma non posso darvi la certezza, quindi dovete provare voi. Seconda cosa, questo è un metodo che permette di trasferire la libreria manualmente quindi non canzone per canzone però non è possibile con un click trasferire tutte quante le canzoni per fare queste cose c'è bisogno di programmi esterni, ne conosco due uno è DJ Conversion Utility che costa all'incirca 20 euro e l'altro è RecordBuddy mi pare che costi 50 dollari circa. Trovate qui sotto il link in descrizione questi sono due programmi diversi, permettono di fare sicuramente più cose però se volete una soluzione gratis, semplice e abbastanza immediata secondo me questa è la migliore che trovate. Che ho trovato per caso in realtà non c'è sul web una guida che spiega come fare questa cosa l'ho trovata io semplicemente facendo dei tentativi. Allora, prima di iniziare vi spiego un attimo anche com'è gestita la mia libreria. Io le canzoni le preparo tutte quante con RecordBox, questo perché utilizzo CDJ, Pioneer oppure la Standalone la XDJ RR e quindi preparo le chiavette all'interno di RecordBox e quindi qua ho tutte quante le mie playlist con la mia collezione, le mie canzoni i miei hot cue salvati e tutte quante le informazioni. Ah, un'altra cosa questo sistema non vi permetterà di salvare le hot cue e altre informazioni se non semplicemente trasferire le canzoni. Per far questo c'è bisogno, come dicevo prima, di programmi esterni. Detto ciò vediamo subito come fare. Allora, io ho la mia playlist qua su RecordBox. Proviamo inizialmente con Serato. Questo è Serato DJ Lite quindi potete scaricarlo gratuitamente, però il procedimento è uguale anche per la versione pro o qualsiasi altra versione, insomma tipo Serato Play che serve personale solo col computer. Detto ciò, come facciamo? Beh, semplicemente su RecordBox se vogliamo trasferire una playlist da RecordBox a Serato ci basterà andare sulla nostra libreria. Questo caso è vuota. L'ho creata apposta. Mettiamo le nostre tre canzoni all'interno di RecordBox. Ecco qua la nostra playlist che vogliamo trasferire. Andiamo su Serato e creiamo un nuovo Create con questo tasto. Insomma, penso che sappiate se utilizzate Serato come si fa. E semplicemente selezioniamo tutte le canzoni. Basta posizionarsi sulla prima, poi andare sopra l'ultima, tenere premuto il tasto Shift e premere sulla traccia per selezionare tutta quanta, tutto l'elenco. E semplicemente trasciniamo all'interno di Serato le tre canzoni. Facendo così abbiamo trasferito la nostra libreria e vi assicuro che se avete un numero sostanziale di canzoni, come ad esempio io nella mia libreria ne ho circa mille, se non di più, è molto pratica questa cosa. Nel giro di cinque minuti sono riuscito a trasferire tutte quante le mie canzoni all'interno di Serato. Andiamo avanti. Altri esempi, possiamo utilizzare DJ Pro che vi apro un attimo. Eccoci qua, ci troviamo all'interno di DJ Pro. Andiamo a fare una nuova playlist che chiamiamo anche qua esempio. Qua non c'è nessuna canzone, facciamo lo stesso procedimento di prima, selezioniamo tutte le tracce, le trasciniamo all'interno di DJ Pro ed ecco qua che ci vengono caricate. Vi faccio vedere, prima non ve l'ho fatto vedere con Serato ma funziona, vedete che le tracce me le carica senza problemi ed è tutto quanto funzionante insomma. Andando avanti cosa rimane? Rimane Tractor che vi apro anche questo un attimo. Eccoci qua su Tractor appena aperto. Cosa facciamo? Andiamo a creare una nuova playlist. Basta schiacciare qua su New Playlist, gli diamo il nome anche qui, esempio. Apriamo la nostra playlist esempio e cosa succede? Che se proviamo a trascinare le tracce abbiamo sempre lo stesso risultato. Le tracce devono essere analizzate, qui vabbè ci sono altre tracce in coda dall'ultima volta che ho usato Tractor, però avete visto che abbiamo importato le nostre tracce, se dopo voglio basta che le carico all'interno del lettore, adesso vabbè sta facendo come dicevo l'analisi. Abbiamo anche qui però trasferito la nostra playlist. Andando avanti a un altro programma ancora, andiamo su Engine Prime che è per preparare appunto le chiavette per CDJ Denon. Qui la storia funziona diversamente, semplicemente come facciamo qui abbiamo un'opzione che è Serato Library, ovvero che se schiacciamo sopra questo tasto ci viene mostrata tutta la nostra libreria di Serato e abbiamo la possibilità di esportarla nelle chiavette. Quindi se voi siete degli utenti che utilizzano Engine Prime e dovete trasferire la libreria che avete in Rekordbox su Engine Prime, come fate? Semplicemente scaricate Serato DJ Lite, è gratis, vi importate la vostra libreria su Serato DJ Lite e dopo ve la troverete a specchio, diciamo uguale, all'interno di Engine Prime per esportarla all'interno delle chiavette. Quindi abbiamo visto come passare da Rekordbox a DJ Pro, a Serato, a Tractor, a Engine Prime. Ho lasciato fuori DJ Ust e Virtual DJ perché personalmente penso che siano soltanto programmi per chi inizia e quindi che non ha la necessità di fare questo passaggio di libreria. Magari funziona anche con quelli che non ho mai provato. I passaggi inversi, quindi se siete degli utenti che utilizzano Serato a Rekordbox sono possibili, vi faccio vedere. Ecco qui ho svuotato la nostra playlist esempio, qui invece abbiamo la nostra playlist esempio piena. Seleziono tutte le canzoni nello stesso modo, le trascino all'interno di Rekordbox che me le aggiunge ed ecco che abbiamo trasferito anche da Serato a Rekordbox. Attenzione però il passaggio inverso non è sempre possibile, ad esempio su DJ Pro mi pare di aver provato già, non è possibile farlo. Proviamo subito in diretta. Ecco qua, seleziono le tre canzoni, vedete che non me la fa copiare. Nessun problema però perché come dicevo prima Serato è gratis, quindi se ad esempio utilizzate DJ Pro e volete passare a Rekordbox vi basta passare nel mentre per Serato che invece lo permette. Ecco abbiamo visto quindi come trasferire la propria libreria da Rekordbox a Serato, da Serato a Rekordbox, da Rekordbox a DJ Pro, insomma tutti questi vari passaggi. Fate i vostri tentativi per quello che è possibile e quello che non è possibile, certi passaggi come avete visto non sono possibili. In ogni caso vi ricordo che Rekordbox è gratis, Serato DJ Lite è gratis, quindi se il vostro programma non riesce a passare ad esempio direttamente Rekordbox vi basta magari passare per Serato che invece lo è. Niente, per il video di oggi è tutto, spero possa essere tornato utile a qualcuno di voi, fatemelo sapere qui sotto con un commento, lasciate un mi piace, mi raccomando restate a casa, stiamo in quarantena per tornare a suonare il prima possibile e qui da Federico è tutto, noi ci vediamo con un prossimo video.